La vita di Paul Gauguin La vita di Paul Gauguin Ma in grandi musei dove ogni anno milioni di persone si fermano sognando il loro istante di paradiso. La vita di Paul Gauguin Un giardino dove non cresce la pianta del dolore, in cui le stesse ombre della sua anima si arrendono alla grazia senza tempo. Quando finalmente gli uomini comprenderanno il senso della parola libertà, che mi importa della gloria? Sono forte perché faccio ciò che sento dentro di me.